Salve a tutti, benvenuti a questi nuovi giorni in pillole che vertono sul commento un comunicato del presidente ANAC dell'11 gennaio scorso in relazione agli affidamenti diretti e al conflitto di interessi. L'oggetto del comunicato è l'esito di un'indagine condotta sulle modalità di gestione delle situazioni di conflitto di interesse nell'ambito della contrattualistica pubblica avvalendosi delle informazioni della banca dati ANAC. L'affidamento diretto, come ben noto, è caratterizzato dall'assenza di un confronto competitivo, quindi è una deroga alle ordinarie modalità di affidamento e ciò rende necessario in maniera ancora più stringente garantire che la scelta dell'appaltatore non avvenga a seguito di condizionamenti impropri, a seguito di inquinamenti di tipo corruttivo. Quali sono le criticità riscontrate? In qualche caso la dichiarazione è stata completamente omessa oppure è stata rilasciata in forma postuma. In altri casi le dichiarazioni sono state rilasciate da soggetti diversi, da quelli obbligati ad esempio dal segretario comunale piuttosto che dal RUP oppure solo dall'affidatario anziché dal personale della stazione appaltante. Le dichiarazioni trasmesse sono state spesso firmate in forma analogica anziché con firma digitale e non risultano spessissimo protocollate e questi due adempimenti sono stati resti obbligatori dalle linee guida ANAC numero 15 e l'importanza della firma digitale e del protocollo è stato reso diciamo comunque considerato nella sua importanza anche da una recentissima delibera ANAC poiché essenziale è la corretta conservazione che serve poi alla verifica in relazione alle dichiarazioni rese da parte della stazione appaltante. In nessun caso è stata dichiarata una situazione di potenziare conflitto di interesse anche se esistente seppure con modalità inadeguate quindi il quadro è abbastanza catastrofico. L'analisi si è concentrata su quasi 5.000 comuni e ha visto due modalità in alcuni casi è stato predisposto un questionario con il quale è stato chiesto di attestare la presenza della dichiarazione in altri casi è stata acquisita per ciascun affidamento la dichiarazione di insussistenza della situazione di conflitto di interesse che poi è stata esaminata dagli uffici dell'autorità. Emerso nel primo caso che non sono risultati conformi le prescrizioni in relazione al 42% dei casi e nel secondo caso in relazione al 55,79. Forti dunque rimangono le preoccupazioni dell'ANAC soprattutto in relazione alla nuova formulazione in relazione al conflitto di interesse prevista dal nuovo codice dei contratti pubblici all'esame del Parlamento perché restringe la nazione stessa dell'istituto, introduce o non è reprobatorio a carico di chi intende far valere il conflitto di interessi che rischia di azzerare l'ambito applicativo della norma e di rendere incoerente e sproporzionato l'obbligo rispetto alle precedenti formulazioni o quello comunque previste dalle norme comunitarie e da altre norme nazionali. Si richiama dunque da parte dell'ANAC l'attenzione delle stazioni appaltanti al puntuale rispetto della normativa in tema di conflitto di interesse soprattutto in relazione agli affidamenti diretti laddove il rischio corruttivo di sicuro è molto più ampio poiché vi sono una serie di deroghe procedurali. Viene ricordato alle stazioni appaltanti la necessità di raccogliere per ciascun affidamento la dichiarazione di insussistenza del conflitto di interesse del responsabile unico del procedimento e di farlo anche in situazioni di potenziale conflitto di interesse così come prescritto d'altronde per tutti i procedimenti amministrativi in generale dall'articolo 6 bis della legge 241 del 90 come previsto dal codice di comportamento dei pubblici dipendenti che come ben sapete sta subendo delle modifiche e come previsto dall'articolo 42 del decreto legislativo 50 nel 2016 e in special modo anche dalle linee guida ANAC numero 15 quindi è un jolly particolarmente importante quello che vi propongo quest'oggi. Una volta emerso il conflitto di interesse è importante anche valutare la specifica situazione adottare le misure idonee perché come ben sapete in alcune realtà quelle soprattutto più piccole non è possibile l'astenzione quindi occorrerà preordinare delle misure idonee ad evitare che comunque il conflitto di interesse sebbene anche solo potenziale possa in qualche modo concretizzarsi. Chiudo con una frase di un noto cantatore che è Samuele Bersani che mi ha particolarmente colpita. Lo scrutatore non votante è come un sasso che non rotola tiene le mani nelle tasche e pugni stretti quando nevica. Ora con questa frase io vi invito ad un'ampia riflessione e ci vediamo prestissimo. Buon proseguimento!